cari amici di box italia tv benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento il piacere di presentarvi l'ospite di oggi è in collegamento con noi il giornalista d'inchiesta aaron pettinari colonna del sito antimafia 2000 da tutti conosciuto ciao aaron ciao ciao francesco buon pomeriggio a tutti quanti quelli che ci ascoltano ecco insomma con un po di ritardo il grande servizio pubblico è tornato a parlare del problema mafia una puntata di report di qualche giorno fa che ha fatto molto discutere ha rimesso al centro dei riflettori i misteri mai risolti del periodo straggista 92 93 da un lato segnaliamo con gioia il fatto che importanti testate nazionali parlino di questioni che molti hanno interesse che restino ormai sepolte nella memoria di chi le ha vissute e conosciute dall'altro però c'è chi come ingroio e borsellino ha detto guardate che siamo di fatto insomma intorno a una pista sbagliata è facile dare la colpa ai mafiosi a graviano ma se le cose insomma sono andate in questo modo le responsabilità vanno cercate molto 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 più in alto tu da quale parte stai ma io ritengo questo innanzitutto c'è da dire che sicuramente il merito nella puntata di report è quella che accende i riflettori su alcuni aspetti come è giustamente detto di cui non si parla da tanto tempo era da tanto che di queste cose non si parlava nella rai nel canale di stato e questo già sicuramente è un dato importante detto questo ci sono molti aspetti che si possono condividere di quanto è stato mostrato e quanto è stato fatto vedere nell'analisi ma ce ne sono anche altri che a mio avviso a nostro avviso andavano approfonditi o comunque diciamo che è stata una puntata un po' compressa ecco diciamo così cominciamo col dire gli elementi avevi concluso Aaron no 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 prego prego e cominciamo col dire quali sono gli elementi che ti hanno convinto insomma cosa c'è di interessante cosa viene fuori di nuovo e cosa secondo te è corretto nella ricostruzione invece dei fatti già conosciuti ma innanzitutto viene passato in rassegna un dato di fatto cioè che abbiamo viene posto l'accento su sulle stragi sul fatto che c'è un'inchiesta aperta sui mandanti esterni a firenze e più quelli si ragiona su quelli che sono gli elementi noi come antimafia di mili siamo sempre concentrati sui mandanti esterni perché è ovvio che non è stata solamente la mafia a uccidere falcone borsellino e a volere quella stagione di bombe che è proseguita nel 93 fino al 1994 già solamente dire questo in parte è rivoluzionario perché non è stato mai fatto con questa chiarezza nella tv pubblica quindi questo è un primo dato al di là del fatto che comunque è stata data voce a un soggetto come tale bagliardo salvatore bagliardo gelataio che ha dato diciamo contribuito alla latitanza di giuseppe e filippo graviano e le cose che ha detto che comunque sono molto simili a quelle che disse anche graviano al processo andrangheta stragista io ritengo che la cosa più corretta in questo momento è che le procure facciano il loro lavoro io ricordo che andrangheta stragista quell'informativa di cui ha parlato il testimone messina era stata ripresa ed è stata anche si era evidenziato come quelle cose comunque erano vere anche qui siamo al solito discorso ci sono alcune cose che possono essere più o meno verosimili è ovvio che l'agenda rossa per esempio sul discorso dell'agenda rossa che tanto ha fatto discutere ce l'hanno i graviano come segnalo ce ne sono più copie è a mio parere inverosimile ma dico questo per il semplice dato che l'interesse di non è più far sparire l'agenda rossa come ha ben spiegato scarpinato nel suo intervento al report c'è tutta quanta una manovra che interessa altri tipi di apparati interessa e poi noi stessi di antimafia 2000 siamo stati quelli che hanno dato o meglio portato alla magistratura la conoscenza di quell'esistenza della fotografia con l'allora capitano arcangioli con in mano la borsa nei minuti successivi alla strage e quindi è ovvio che noi pensiamo che sono gli apparati di stato che erano interessati a far sparire quel preziosissimo documento e come hanno detto del resto anche ingroia e salvatore borsellino poi va bene possiamo stare a disquisire che a nostro avviso non è presunta la trattativa ma è confermata che ci sia stata una trattativa possiamo disquisire sul dato che sicuramente per quanto riguarda anche alcuni passaggi diciamo della ricostruzione magari ripeto io voglio sperare che per la velocità con cui bisognava comprimere tutta quanta la la puntata non si sono approfonditi alcuni alcuni punti alcuni temi che magari sono molto più complessi di quello che è stato rappresentato cioè o meglio il coinvolgimento del sistema e del pistaggio il coinvolgimento andiamo con ordine arono facciamo una cosa seguiamo le tutte queste queste piste una per una così magari permettiamo anche a chi ci guarda di farsi un'idea precisa punto per punto intanto cominciamo col dire una cosa le bombe del 92 93 secondo te secondo quello che emerge anche dalla racconto della puntata sono un blocco unico o una cosa sono le bombe che ammazzano falcone borsellino e un'altra quelle in continente del 93 le stragi sono legate e la ricostruzione che emerge dal dalla trasmissione ma è quello che emerge ormai da diversi inchieste processi e che sono legate quello che accade nel negli anni 90 riguarda un progetto eversivo che viene messo in piedi da cosa nostra e non solo su questo penso che non ci sia ombra di dubbio ci sono svariati collaboratori è un dato che emerge in tanti processi ne parlano tanti collaboratori giustizia delle famose riunioni di enna in cui partecipano soggetti vicini alla estrema destra partecipano soggetti vicini alla massoneria e partecipa anche cosa nostra e si dice anche che in quelle riunioni di viene nel novembre dicembre ottobre novembre dicembre comunque comunque nel 91 che si decide di rivendicare anche le stragi con questa misteriosa sigla di cui si è accennato nel nella puntata della falange armata e questo è già un dato un dato di fatto quindi che c'è una linea che viene fatta poi con varie motivazioni su questo possiamo essere d'accordo cioè falcone viene ammazzato per un determinato motivo con una convergenza di interessi da che viene non solo da cosa nostra perché questo ce lo racconta antonino giuffre ma non solo sono le cose che 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 ce lo dimostrano perché poi ci sono le curiosità no c'è quell'attentato che deve essere fatto a roma invece viene fatto a capaci ecco la presenza anche a capaci di ritrovamenti di questo mi ha stupito in parte che non si è parlato nella nella puntata perché riguarda comunque sempre il capitolo dei cosiddetti mandanti e concorrenti esterni di ritrovamento di guanti tracce di dna che non sono dei boss ma sono di qualcun altro di un bigliettino in particolare che faceva riferimento a agenti dei servizi insomma ci sono state delle cose particolari anche su capaci per non parlare poi anche delle singolari diciamo estrazioni di prove documentali da parte di soggetti l'fbi nel nel luogo del cratere prove che a che titolo l'fbi in quel momento poteva permettersi di sottrarre a proposito di questo aaron del convolgimento diciamo di uomini dei servizi non soltanto italiani ma anche diciamo atlantici anche perché lavorano insieme poi le agenzie di intelligence è difficile immaginare i servizi segreti italiani e quelli americani piuttosto che inglesi come dei blocchi completamente separati poi esistono degli uomini di raccordo che tengono insieme tante cose tu pensi che il clima che si sta respirando in america con una lotta feroce che coinvolge anche gli apparati profondi possa cascata determinare insomma l'arrivo di notizie di prima mano rispetto a quello che è successo in italia in quegli anni cioè la cassaforte dei segreti è negli stati uniti d'america negli stati uniti credo e ritengo che ci sia molto ma è la storia del nostro paese che è intrecciata a doppio filo con gli stati uniti d'america francesco questo è senza ombra di dubbio da portella della ginestra in poi siamo pieni di stragi di tentativi di golpi di golpe abbiamo avuto quello borghese abbiamo avuto la rossa dei venti abbiamo avuto tante cose il lo stesso rapimento e poi morte di moro ci vede intrecciati con con gli stati uniti d'america a doppia mandata e anche le stragi degli anni 90 su questo ma io lo ritengo per un semplice dato perché i soggetti che ruotano dietro le stragi sono anche molto vicini a quegli ambienti questo purtroppo soprattutto per quanto riguarda appunto i progetti di eversione di attacco allo stato io noi siamo convinti che non c'era solo cosa nostra questo lo possiamo ribadire totò cancemi uno dei collaboratori forse più importanti che abbiamo avuto nel corso nel corso del tempo che poi è deceduto disse chiaramente che rina era stato preso per la manina per fare le stragi poi c'è stata l'accelerazione di borse della morte di borsellino che è un'altra anomalia di cui parla per primo anche cancemi proprio e quindi dobbiamo interrogarci dobbiamo capire perché dopo borsellino si alza ancora di più la posta perché muoiono i due magistrati più importanti in quel momento d'italia l'italia è quasi in ginocchio ma si alza ancora di più la posta perché si attaccano i monumenti sappiamo che anche da questo punto di vista le domande sono tante perché se vogliamo dire a chi dice che ne sanno rina e provenzano di dove andare a colpire i monumenti cioè per quale motivo gli interrogativi sono veramente sono veramente tanti poi ci deve essere la strage all'olimpico che non c'è stata più e la coincidenza delle date in quel periodo storico è clamorosa perché nel giro di un fazzoletto di una settimana in base a quello che ci racconta spatuzza che ha un pentito collaboratore giustizia attendibile ritenuto attendibile da più procure perché ricordiamo è quello che ci racconta i fatti come sono andati sulla strage di via d'amelio e nel giro di una settimana si organizza l'incontro con graviano graviano gli dice che tramite berlusconi e dell'utri si sarebbero messi il paese nelle mani dice di aver avuto un incontro con dell'utri e berlusconi che quindi c'era questo accordo raggiunto l'accordo che era grandioso felicissimo poi dopo accade che graviano che comunque gli dice di fare l'attentato all'olimpico l'attentato all'olimpico si si fa o meglio non si fa perché per un errore per un mancato funzionamento del telecomando non esplode una bomba che avrebbe dovuto uccidere 100 carabinieri alla partita roma udinese e siamo al 23 di gennaio il 26 c'è la discesa in campo il 27 c'è l'arresto dei graviano sono coincidenze di date che però ci lasciano degli interrogativi che comunque si sta cercando nel corso del tempo è vero che come dicono i regali di berlusconi che sono state delle inchieste archiviate ma in quelle inchieste ci sono delle tracce che oggi sono state riprese in mano alla luce di quanto è stato detto da la bocca interna degli stessi boss mafiosi le intercettazioni di rino le intercettazioni di graviano in carcere altre le estenazioni dello stesso spatuzza tutti elementi che si stanno riprendendo e rimettendo in fila ma per capire quello che è accaduto nella nostra nella nostra storia questo credo che sia un passaggio fondamentale per questo io non voglio essere completamente diciamo critico nei confronti di quello che è stato trasmesso lunedì dico che magari alcuni elementi si potevano approfondire o meglio spiegare in maniera diversa ci sono stati fatti anche delle cose incomplete però insomma nel nel bilanciamento non sono totalmente negativista su quanto è stato mostrato lunedì perché ripeto quella puntata ha degli elementi buoni delle buone intuizioni magari alcune non le ha sviluppate al meglio però insomma sono ha delle buone intuizioni sentito hai toccato dei punti importanti cioè hai detto guardate che quella stagione non è che è stata fatta così insomma come hanno raccontato al popolino perché i cattivi a un certo punto si sono vendicati dei buoni perché non volevano essere arrestati questi sono racconti per infanti ormai siamo tutti cresciuti queste favolette non ce le beviamo più quelle quelle stragi sono servite per cambiare gli equilibri politici ora se le bombe del 93 come tu hai lucidamente ricostruito con riportando le parole di spatuzza sottolineando questa stranezza cioè dalla discesa in campo di berlusconi e con l'arresto dei graviano che raggiunti erano a milano mi pare che furono arrestati a milano se non sbaglio sì sì nei pressi di milano nei pressi di milano è chiaro che nel 94 nasce il bipolarismo italiano con la discesa in campo di berlusconi quindi diciamo si chiude un cerchio e finiscono le stragi però se noi utilizziamo questa logica aaron e diciamo che erano delle bombe politiche cioè che era uno stragismo finalizzato a influenzare il il dibattito politico e la natura della politica italiana forse dovremmo anche con lo stesso metro dire che quelle del 92 ottengono in maniera uguale e contraria due risultati diversi cioè affossano il vecchio pentapartito quindi la morte di falcone borsellino è contro il pentapartito e a favore del centro sinistra che prende le redini nei governi diciamo di transizione quindi è possibile immaginare che le bombe del 92 servono questi interessi e quelle del 93 quelli che prima tu hai richiamato ma guarda ci sono due aspetti che dobbiamo ragionare io sono molto ho seguito diversi processi per l'ultimo di questa estate quello del processo anche da stragista che si è tenuto a reggio calabria e io condivido questo aspetto cioè noi dobbiamo ragionare che le bombe avvengono in un momento non possiamo ragionare all'italia senza guardare a quello che avviene dal punto di vista internazionale nell 89 crolla il muro di berlino ci sono una serie di cose che accadono per cui un sistema di potere è un sistema in un intero sistema di potere politico e non solo anche istituzionale o comunque di strutture istituzionali deve ricollocarsi all'interno del potere perché ha finito ha esaurito quella che era la sua funzione e anti chiamiamola così anticomunista rispetto a quelli che erano prima i due blocchi perché questo è accaduto nel corso della nostra storia con tutte le stragi che sono state nel periodo della strategia dell'attenzione questo è un dato che noi prendiamo è ovvio che bisognava ricambiare come dicevi la classe politica e questa classe politica che non riusciva più a garantire neanche cosa nostra e cosa nostra aveva necessità di cambiare politica perché non con maxi processo si era visto che fine avevano fatto quelle sentenze con gli ergastri che erano stati dati ai boss tanto che loro pensavano di creare sicilia libera ma non è che la creano da soli la creano coinvolgendo quelle strutture di potere che avevano avuto diciamo certi tipi di interessi penso il coinvolgimento che era stato fatto con vito ciancimino con liciogelli di questo si parla ai tempi delle leghe meridionali anche anche con soggetti della lega nord miglio per fare un esempio ma tu dici va analizzato il quadro politico nel suo insieme assolutamente però ad esempio prendiamo dei casi particolari aron c'è esco perché dici che la sinistra l'anno di mezzo ha avuto un ruolo importante io dico solo un dato oggettivo di cosa se noi diciamo il 93 aiuta berlusconi a entrare in campo a chiudere il cerco intorno al bipolarismo destra sinistra dico che è un dato è un rapporto di causa effetto oggettivamente vero ma poi siccome non sono uno strabico dico lo stesso effetto l'hanno avuto quelle del 92 nell'eliminare il pentapartito e mettere quegli governi tecnici che poi dovevano garantire sta transizione quindi io consiglierei solo di usare lo stesso metro diciamo assolutamente il metro ma aggiungiamo anche un altro che essendo un governo tecnico e quindi meno politico proprio quel governo tecnico entra si scatena una violenta attacco e minacce questo è il processo datativo stato mafia perché quel governo sarà poi quello che contro cui si si scatena proprio per togliere determinate leggi che sono state fatte in maniera dopo la morte di falcone borsellino penso al 41 bis penso a anche la stessa legge appunto sui collaboratori di giustizia cioè soprattutto il 41 il carcere duro dava fastidio io non posso non dire e questo per esempio è un altro degli aspetti che magari non è stato approfondito ma si deve sempre mettere sul piatto il ragionamento è quello che la dia dopo le stragi del 93 di milano e firenze accadono due cose una è stata ricordata nella puntata che è quella della morte di gioè in carcere che è lo stesso giorno e non è casuale credo io che viene trovato più o meno suicidato io lo direi che è stato suicidato più che si è suicidato sono portato a pensarla così e poi c'è il dato che comunque la dia farà un documento in agosto dove chiaramente chiaramente dice parla di trattativa e parla di carceri 41 bis che non ci devono essere cedimenti su quel fronte è inutile dire che quello che accadrà nei mesi successivi con alcuni allentamenti e poi anche via via nel corso del tempo con svariati governi di destra e di sinistra che è stato svuotato questo 41 bis non è più quello di allora magari possiamo essere più o meno d'accordo che debba essere integralmente uguale ma è comunque stato svuotato cioè oggi ci sono capi mafie che il 41 bis riescono comunque a comunicare con l'esterno e questo lo dicono delle inchieste recenti questo non possiamo la situazione situazione qui poi sono stati chiuse le supercarceri insomma tante cose sono state fatte senti della sinara ad esempio pianosa c'è un dato anche questo secondo me politicamente non non banale che quando scoppia la bomba che uccide falcone si stava votando per l'elezione del nuovo presidente della repubblica quella bomba affossa le velleità di andreotti e di forlani e ci arriva oscar luigi scalfaro lì che era un uomo già vicino alcuni insomma un uomo che conosceva bene il sisde per avere fatto il ministro dell'interno ci ricordiamo il suo famoso non ci sto ed è un uomo che magari è stato più che lambito dall'inchiesta sulla trattativa dove insomma all'epoca sono state messe in luce alcune cose insomma e quell'uomo era l'uomo che ha disegnato il centro-sinistra diciamo successivo in un certo senso per cui la storia è molto complessa e va letta da tutte le parti volevo sapere questo da te aaron secondo te questa agenda rossa chi ce l'ha adesso insomma è nelle mani di chi tu pensi davvero che ce l'abbia graviano no 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 questo non lo penso assolutamente se vogliamo ragionare dal momento in cui è stata sparita ok va bene può averla chiunque non non è propriamente così nel senso che è un dato di fatto francesco e prima ricordavo l'immagine della borsa gli arcangioli con in mano la borsa ma poi ci sono state anche altre questioni che hanno riguardato appunto questa borsa che viene portata a destra a sinistra per via d'amelio poi a un certo punto appare in un'auto ci sono testimonianze come quella delle poliziotto magi che raccontano come da appena dieci minuti dopo dall'esplosione lui ha visto sul posto di via d'amelio servizi come è possibile mi chiedo io che uomini dei servizi siano lì chi li ha avvisati cosa facevano si mostrava un certo tipo di interesse per questa agenda di borsellino che non può non può riguardare non ha riguardato uomini di mafia ha riguardato uomini importanti delle istituzioni questo è quello che io credo e che ce l'hanno probabilmente terminati apparati perché comunque è un è uno strumento di ricatto è uno strumento di ricatto verso in base a quello che paolo borsellino aveva scoperto perché noi abbiamo due dati una casa professa lo stesso borsellino si dichiara testimone per quanto riguarda la morte di falcone lui è un testimone perché può dire delle cose che lui sa da testimone per capire comprendere meglio il perché viene ucciso giovanni falcone questo è un dato certo poi sappiamo anche come dati certi per esempio che viene informato della trattativa ed è un altro dato certo perché ce lo dicono non solamente la questione trattativa non è solamente una questione di massimo ciancimino è una questione che ce la dicono anche martelli ce la dice la ferraro ce lo dicono altre persone che lui viene messo a conoscenza di quell'incontro tra il ross e vito ciancimino questo va sempre ricordato e altra questione di cui di lui che lui apprende in quel periodo storico è quello che viene a sapere da leonardo messina e da gaspare mutolo che gli parlano di uomini restituzioni con rapporti con cosa nostra gli parla sicuramente mutolo di questo di messina io non ho prove non ho nessuna prova però voglio fare un ragionamento con voi perché leonardo messina che è un collaboratore non di poco conto ma è molto importante leonardo messina dirà nel dicembre del 92 quando avrà sentito in commissione antimafia parlerà di una struttura di poteri di una cosa di una cosa unica non di una cosa nostra di una cosa unica tra le varie mafie parlerà quindi cosa nostra andrangheta e non solo parlerà dei rapporti tra la mafia e la massoneria e dirà alla commissione parlamentare antimafia che ci sono questi tipi di rapporti che sono imprescindibili per fare un altro esempio nel momento in cui queste cose le dice messina e nel momento in cui io posso pensare vi l'ho avuto lì come domanda è legittimo pensare che magari così come è successo con mutolo che aveva parlato di contrada che aveva parlato di carnevale che aveva parlato e non aveva messo a verbale nel primo incontro del primo luglio queste cose potrebbe essere pensabile che magari messina anche abbia detto alcune cose a paolo borsellino è interessante questo punto di vista per concludere questa lunga disamina è lunga insomma giusta disamina perché il tempo non basta mai per approfondire tutti gli aspetti vorrei chiudere questa intervista facendo luce sulla figura di un personaggio che il mainstream non vuole mai citare insomma non viene viene quasi mai tirato in ballo eppure è forse l'elemento più ingombrante più pesante di tutta questa storia che è l'ex uomo cisne arnaldo la barbera conosciuto con il nome in codice di rutilius cioè l'uomo che guida le indagini al domani delle stragi del 92 che guida il gruppo di indagine falcone borsellino che costruisce il debistaggio di via d'amelio intorno al falso pentito scarantino e che aveva rapporti ottimi e di grande fiducia con dei magistrati conosciuti come degli eroi antimafia che magistrati che insomma importanti non solo a palermo ma anche in lombardia ecco tu che cose che idea ti sei fatto di quest'uomo è possibile che quelli che hanno affidato cioè che alla fine i mandanti esterni siano quelli che stavano dietro alla barbera che avevano tutto l'interesse a debistare le indagini ma io credo che la barbera abbia avuto indubbiamente un ruolo perché appunto ce lo dice la sua storia adesso abbiamo scoperto che lavorava per i servizi almeno fino al 1988 questo è quello che dicono le carte ma sappiamo bene che non sono le carte che decidono quanto sei dentro o fuori da un servizio cioè i servizi giocano su più piani e comunque la barbera ci sono alcune testimonianze credo che ricordano come si incontrasse più volte con desica se non erro adesso comunque desena forse desena desena scusatemi sì desena esatto infatti ho detto desica ma sì vabbè perché quello magari è stragi di natale potevano girare un film con desena e quindi queste cose queste cose sono dei dati sono dei dati di fatto che ci sono stati come sena scusa se ti interrompo che poi ha finito la sua carriera come senatore del pd insomma è un uomo molto vicino al pd è stato anche in calabria all'epoca all'indomani dell'omicidio fortunio un uomo molto amico molto stimato da marco minniti ex viceministro del ex ministro dell'interno che ha avuto anche la delega i servizi in uno degli ultimi governi io quello che segnalavo era proprio questo che comunque la barbera ha avuto un ruolo è singolare non è singolare è un reato quello che è successo quando un magistrato come il procuratore capo tinebra chiama immediatamente contrada gli affida un pezzo delle indagini e contrada può dire quello che vuole comunque un dato di fatto che ci sono due informative dei servizi che i post diciamo spostano l'attenzione su un scarantino c'è almeno una che fa questo nel settembre ottobre del 92 se non erro e nell'agosto 92 c'è quella informativa dove addirittura si dice che ambienti e la polizia già avevano individuato pure dove sarebbe stata messa l'esplosivo dentro la macchina cioè si parlava di queste cose qua come facevano ad avere queste informazioni questi sono i misteri che nel borsellino quater sono emersi oggi col depistaggio via da meglio il processo contro i poliziotti si sta ancora andando avanti io credo che i mandanti esterni sono quelli che sicuramente vogliono prendere l'agenda rossa questo è poco ma sicuro arnaldo la barbera potrebbe avere avuto un ruolo su questo dato nel momento in cui ci sono due elementi che dà della matta a lucia borsellino quando fa notare che manca l'agenda rossa ci sono anche credo un'agenzia di rannado la barbera che addirittura sostiene che potrebbe essere andata bruciata credo di ricordare qualcosa del genere e queste sono tutte cose che ovviamente ci fanno riflettere ci fanno pensare ho il timore però ho il timore che i miei rimandanti e le stragi siano a un livello molto più alto di la barbera siano a un livello molto più alto anche di contrada stesso potrei anche pensare questo perché ce lo dicono ce lo dimostra il fatto per esempio un'altra cosa che è stata detta nella puntata per questo io dicevo ci sono alcune cose che sono positive che sono andate in onda perché se no uno non ragiona su questi aspetti altre magari no ma questi aspetti sono importanti perché quando si dì quando rina nell'intercettazione a un certo punto e lo ricorda mi sembra il procuratore roberto tartaglia del che a un certo punto dice e parla dell'accelerazione di borsellino e dice e arriva quello e mi dice subito subito e io gli dico che ci penso io ecco noi dobbiamo interrogarci chi è quel quello che si può permettere al capo mafia totorriina di dire al capo mafia totorriina devi fare questo e ci dice cancemi ci dirà cancemi che lui si assume la responsabilità quando gli fanno notare raffaele ganci cancemi che potrebbe essere un problema ammazzare borsellino dentro i 57 giorni subito dopo capaci chiaro queste sono le domande sono domande aaron che alleggiano ancora a distanza di 30 anni insomma noi continueremo a battere su questi punti perché questo paese non recupererà mai una serenità una verità una politica degna di questo nome se non riesce a fare i conti con la tragica storia recente di questo paese anche perché gli equilibri politici di oggi sono ancora certamente il risultato di quel bienio stragista naturalmente non potevano essere degli apparati finali dello stato quelli che pensavano una strategia di questo tipo per cui convengo con te che non sono quelli gli uomini a volto coperto però magari provando a ricostruire i fili che partono da quegli uomini da qualche parte si arriva il nostro tempo è terminato ma è stato speso benissimo grazie aaron per essere stato con noi la presenza è sempre preziosa grazie a voi francesco grazie a voi cari amici di box italia tv come sapete noi amiamo occuparci di politica estera di politica internazionale di economia di questioni che riguardano la cultura però sappiamo anche che questo paese ha un disperato bisogno di inchiesta abbiamo bisogno di continuare a parlare delle cose che gli altri vogliono tenere nascoste di farlo con un punto di vista franco laico libero senza ripetere come dei pappagalli le costruzioni interessati che il mainstream spesso produce a uso e consumo dei soliti noti anche questo è vox italia tv aiutateci a rimanere insieme a voi per tutto il 2021 donando agli indirizzi che vedete in sovrimpressione tramite bonifico tramite paypal continueremo a fare luce è il caso proprio di dirlo dopo questa intervista dove gli altri vogliono che resti l'ombra e l'omertà